Ben trovati amici del Centrometro Italiano. Colpo di code invernali sull'Italia questo weekend con aria fredda artica che arriverà insieme al maltempo già nella notte tra sabato e domenica. Spazio quindi perché la neve torni a cadere ad iniziare dalle Alpi dove inizialmente i fiocchi si spingeranno fino a 1200-1300 metri. Domenica 5 maggio, con le temperature che crolleranno ben sotto le medie del periodo, la neve scenderà fino a quote anche basse. Sulle Alpi centroorientali i fiocchi in mattinata raggiungeranno anche i 500-700 metri, mentre in Appennino scenderanno fino a 600-900 metri. Dal pomeriggio dorsale appenninica protagonista, con accumuli fino a 30-40 centimetri a quote medie sui settori settentrionali, ma non si esclude che i fiocchi scendano fino in collina. Neve sotto i 1000 metri anche sull'Appennino centrale nella seconda parte di domenica, mentre il maltempo e il freddo raggiungeranno il sud lunedì. Qualche fiocco potrà dunque cadere anche sull'Appennino meridionale fin verso i 1000-1300 metri. Per tutti i dettagli seguite come sempre il nostro sito o il nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Mete Italiano!